La depurazione del lago di Garda Oggi devo dire che grazie al Presidente Mogra che ha convocato entrambe le regioni nei loro assessori all'ambiente, Terzi e Conte, è stato un incontro che da tempo programmavamo, era proprio quello di dire troviamo le due regioni in quanto il lago non è diviso, il lago è unico ma una sponda è veronese e l'altra è bresciana. Quindi avere le due regioni che finalmente si sono trovate allo stesso tavolo vuol dire partire con un progetto che coinvolge Garda 1 e l'azienda Gardesana Servizi di Verona in quello che è il miglioramento ma soprattutto la realizzazione dell'impianto di depurazione della sponda bresciana e il collettamento della sponda veronese. È un progetto estremamente importante, è un progetto che va nella direzione di eliminare la condotta sublacuale che sappiamo bene data 30 anni e quindi questa criticità che oggi non è un'allarma ma che può diventare un po' di preoccupazione verrebbe tolta e quindi dando origine a una nuova completa depurazione rispettando totalmente il lago anche come risorsa idropotabile e non solo come elemento importante di turismo di tutta l'Italia del nord. Non vorrei offendere l'assessore della regione Lombardia Claudia Maria Terzi dicendo che finalmente anche la regione Lombardia si accorge che c'è un lago di Garda, che c'è la depurazione, che abbiamo dei problemi, cerchiamo di superarli. Oggi avete dimostrato con l'invito di Molgora e con gli altri assessori di tenere a cuore questo lago di Garda e la sua depurazione. Beh, direi che la regione Lombardia è da un po' che si interessa del lago di Garda, devo dire, e abbiamo raccolto però molto volentieri quella che è la richiesta del presidente Molgora di trovarci intorno a un tavolo e di lavorare in maniera unitaria. Il lago di Garda di fatto è il punto d'unione tra la Lombardia e il Veneto e così lo consideriamo, ci lavoriamo insieme tutti con un unico obiettivo che è quello di prevenire eventuali problemi che attualmente non ci sono, perché insomma il sistema attualmente funziona, è però al limite e quindi ci dobbiamo pensare e non nascondiamo la testa sotto la sabbia, ci preoccupiamo anche di quello che sarà il futuro dei nostri figli, quindi interveniamo. Vediamo che sia un futuro abbastanza prossimo. Beh, direi che la volontà di partire c'è, se non fosse per Natale ci saremmo già trovati la settimana prossima, già dai primi di gennaio i funzionari di tutti gli enti interessati, quindi dalle società di gestione piuttosto che della provincia che delle regioni si troveranno e insieme lavoreranno appunto per portare avanti il più in fretta possibile questo progetto. Daniele Molgora, presidente della provincia di Brescia, oggi ha voluto riunire attorno a sé qui con lui in provincia, l'assessore regionale Veneto e l'assessore regionale Lombardia per parlare di questo lago di Garda della depurazione, ne parliamo, io sono un gardesano, da quando sono nato sento parlare di depurazione, ne stavo ancora parlando, riusciremo a fare questa unitarietà di intenti e soprattutto di valorizzare questo lago. Il percorso adesso è tracciato, appena dopo le feste natalizie ci sarà una riunione per scrivere dal punto di vista tecnico le modalità per presentarsi al Ministero dell'Ambiente a Roma da una parte e a Bruxelles alla Commissione Europea dall'altra per ottenere al Ministero un accordo di programma e al velo europeo dei finanziamenti che dovrebbero entrare per il periodo 2014-2020 e quindi soddisfare tutte le esigenze legate alla depurazione delle acque, tenendo presente che il progetto è pressoché concluso, credo che entro il mese di febbraio la progettazione abbia, si sia al progetto definitivo e quindi noi siamo molto avanti come territorio. Lo stesso sta facendo Verona per quello che riguarda la sua sponda. La cosa importante da sottolineare è che sarà un progetto unico e quindi indipendentemente verrà presentato dalla suddivisione fra Brescia e Verona, fra Lombardia e il Veneto. Quindi credo che questo porterà a individuare in tempi rapidi l'inizio dei lavori, rapidi considerando anche l'importanza del progetto. Diciamo che temiamo più i tempi del Ministero rispetto a quelli di Bruxelles, però il fatto di poter disporre già di un depuratore per quanto debba essere rinnovato, come quello di Visano, con quindi un'area già individuata, la possibilità di espanderlo, questioni burocratiche che sono già state affrontate quindi perché c'è già una localizzazione, questo ci consente di abbreviare i tempi di due o tre anni addirittura. Le due province sono d'accordo e mettono quello che possono, i due ambiti idem, le due regioni anche mettono qualcosa a loro disposizione, in più col sostegno delle regioni, poi verrà coinvolto anche il Trentino successivamente, si cercherà di ottenere da Roma una quota e la maggior parte a livello europeo, anche perché i fondi per l'ambiente dal punto di vista europeo sono quelli più facilmente raggiungibili e anche più facilmente cantierabili, visto che il progetto è sostanzialmente concluso, perché parliamo di tempi legati a circa due mesi per concludere il progetto che è già a buon punto.